Welcome to Ladies and Chamberlain, si iniziamo in Anticcio ma ce l'ho fatta per il rotto della cuffia e torniamo immediatamente dove eravamo rimasti ovvero con le nostre tre storie ovvero il nostro detective incaricato di eh pronto per il debut lasciamo perdere che ma guarda pronostico vorrei dire che non si fa male a nessuno ma ci fate il culo allegramente ma proprio senza senza troppi problemi è una passata di pionte che ci passa la paura eppure la zona champions comunque dicevo ritorniamo sulle nostre storie sulle nostre tre storie abbiamo Connor il detective androide cara la testimone di un abuso domestico e Marcos che fa da che fa da badante a un povero vecchiaccio con un figlio tossicomale all'ennesima potenza insomma un bel quadro familiare vediamo che cosa come si evolve la storia per adesso non ci sono stati bivi perché ti stai ridando problemi abbiamo la connessione mamma mia sto dicendo per adesso la storia non ci ha dato bivi esagerati e per ora è stato tutto abbastanza lineare probabilmente andando avanti cambieranno un po di cose allora ok siamo tornati da cara e quindi dal nostro simpatico padre di famiglia creco cominciamo bene ok serviamo il pasto per ora non sembra ci siano grandi problemi sembra la stessa partita di ok danno non ho capito comunque adesso scherzi a parte questo probabilmente porca putana dove devo passare probabilmente il probabilmente la la storia più triste delle tre perché stando ai disegni che abbiamo visto della la scorsa volta che devo accendere la luce dove cazzo si ma stai calmo ho detto aspettate mi devo aiutare che qua non sono di casa eccola lì ma mi fa mi fa veramente piacere che sia stato recepito bene dicevo ma la vita perdo il lavoro per colpa degli androidi e quando mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa che cosa faccio esco e assumo un cazzo di androide pazzesco piantala di girare che cazzo mi dai sui neri che hai da guardare che cazzo di problema hai direi almeno non ce l'hanno fatto vedere ma si è capito cosa è successo torna qui torna qui subito tu resta lì non provare a muoviti sta saltando un po' ecco quello che stavo per dire prima che c'è no ah proprio c'ho il campo di forza e qualcosa mi dice che stiamo rischiando grosso però vista la situazione ci dobbiamo provare no sta laggando porca miseria direi che ragionare c'è poco da ragionare perciò direi che è meglio pensare a proteggere la bambina prima che sia troppo tardi questo forse è l'arco stavo dicendo questo è probabilmente la la storia più la storia più pesante delle tre stavo dicendo una un padre drogato che picchia gli androidi picchia le bambine mi picchierà scappa va via o ti romperà come l'ultima volta cara proviamo a ragionarci prima mi sa che non è stata una bella idea no proprio per niente è stata proprio un'idea del cazzo che cazzo fai fuori dai coglioni è un ordine capito? no voglio che lasci stare Alice voglio cosa vuol dire voglio tu non vuoi niente sei solo un pottuto pezzo di plastica credo che tu abbia un problema dobbiamo risolverlo eh porca troia sti quick time event almeno avvisate quando li fate mamia soprattutto devo per forza inclinare sto cazzo di mamia mamia manco in palestra mamia 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 non mi chiedi mamia 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 ma mamia ok adesso sono cazzi se mi permettete penso prima alla bambina più che piuttosto che e che palle madonna sti comandi del manga ok ce l'abbiamo fatta eh guarda sono tentato ma non non sono sicuro possa avere lo stesso effetto fare scarponi qui e editore su youtube per quello se no l'avrei già fatto l'avrei fatto molto volentieri ma tanto abbiamo visto come nasce un deviante tra una cosa e l'altra perché sostanzialmente il deviante è l'androide che acquista una coscienza e decide di agire al di fuori delle sue direttive come abbiamo visto prima come abbiamo visto avvenire il discorso con l'altro androide che aveva coltellato il suo il suo proprietario qua devo presumere esatto che le scelte fossero veramente tante quindi qui deve essere cambiato molto per forza magari lo giocherò per gli affari miei per vedere che cosa cambia ma credo sarà una roba troppo lunga oh torniamo da marcus sta svolgendo tutto nell'arco della stessa giornata tra l'altro quanto altri spettatori grazie provo ad abbassare la risoluzione di solito va meglio così oddio mi sta mi fa impazzire Carlo l'hanno costruito alla grande come personaggio un po' più un po' più tranquilla la situazione ma non male ok c'è quel tossico del figlio polizia di detroit posso aiutarla parla all'android di carman fred 89 41 la paia di eben siamo rientrati a casa e le luci sono accese possibile intrusioni una battuglia e andiamo a controllare no vengo con te ah così proprio se devi tirare le cuoia lo fai con stile bene bravo mi piace posso capire la tua la tua idea eh infatti c'è quel tossico di merda del figlio manca a farla a poza che stai facendo rifiuti di aiutarmi mi aiuto da me è assurdo quanto paghino questa merda non toccarli senti tanto prima o poi diventeranno mie comunque consideralo piccolo anticipo sulla mia vita marcus fallo allontanare da lì mandalo via non fare così Leo non serve a niente mi dici sempre è solo di andarmi che c'è va non manco niente non sono perfetto come questo cazzo di appare adesso basta fuori adesso forza via cosa che io non ho lasciano stare ecco la cazzata vediamo che sei vabbè oggi si merda ho capito quindi ecco qua anche qui abbiamo visto abbiamo visto come nasce un deviante quando appunto come ho detto prima acquista una coscienza e anche a sto giro ci tocca ammellare a qualcuno proprio mo basta no non è neanche la risoluzione allora veramente non so però cerchiamo di rimanere calmi anche se vedo che stiamo morendo perché credo abbiamo un infarto è calda è andato cazzo gli umani sono macchine fragili car non lasciarmi ok non andartene ti prego ricorda marcus non permettere a nessuno di dirti chi sei ok no no papà no ti prego è tutta col papà non sarebbe successo è colpa tua ma si peggioriamo la situazione ecco qua troppo tardi quelli mica ci pensano non so non puoi guardare la pc oh oh quale voce e qua di bivio ce n'era uno solo abbiamo scelto forse quello più stronzo visto che carlo è schiattato ci hanno accusato del suo omicidio insomma il malastismo della vita ma torniamo da condo che è successo prima del coltello eri lassù da molto perché non sei scappato difficilmente si metterà a parlare e questo significa che ci dobbiamo pensare noi e che all'anno ecco stavo per dirlo io mi hai anticipato connor appunto che cazzo cosa minchia vi costa farlo parlare con lui facciamo un bel tentativo bisogna dimandare in vacca anche questa che già ne hanno sparato già ce ne hanno sparato uno vediamo un po' cosa risolvere allora prima lo controlliamo perché non si sa mai c'è il sangue del proprietario i segni nelle braccia che sono la pelle bruciature di sigaretta e questa è invece proprio la ferita dell'ammazzata baseball come all'identikit probabilità di autodistruzione è basso ok meno male lo possiamo ancora gestire tra virgolette poi ci manca ah ok una spillina che dice ma cazzo non ho letto eh vabbè non la fa il culo stress ottimale ok quindi lo dobbiamo prima di tutto rassicurare bene mi chiamo tu invece come ti chiami no non va bene non ci siamo e che cazzo cosa bisogna fare per calmarlo questo qua prima che salti in aria ma non posso fare niente se non parli con lui e che cazzo cosa gli devi dire a quei fai come cazzo vuoi salta in aria oh ti prego non farlo mi ha dato una svegliata si è spaventato una volta che mi ha parlato di sondare la memoria vuol dire che nasconde anche qualcosa no addirittura ha reinstallato twitch e porca troia di nuovo abbassato lo stress perché gli hai detto che mi hai trovato perché non mi hai lasciato mai basta sono programmato per braccare degli anticomitenti ho solamente fatto il mio dovere meno male non voglio morire allora va direi porca di quella troia non ti costa niente dire la verità e che cazzo sei una pigna nel culo robotica proprio ok e che cazzo e vabbè si quanti tasti devo schiacciare vabbè si un polpo oh ok è più o meno andata come abbiamo ricostruito noi l'ha centrato con la mazza ok ho sondato la sua memoria so cosa è successo non va eh forca miseria oggi proprio non ci siamo ecco qua ecco qua chissà che abbiamo fatto una troiata fermano che intervento ragazzi ma questa è già la seconda volta ne abbiamo già persi due oggi eh sai che durerà molto poco questo se consideriamo così ce li ammazzano tutti qua c'erano addirittura quattro possibilità abbiamo preso la più stronza di tutte senza neanche pensarci vediamo adesso a questo punto ci è rimasta solo cara che sta scappando dal che sta scappando la tob a meno che non ci sia qualcosa che non sappiamo e ci abbiano aggiustato e ci abbiano aggiustato anche gli altri due gli altri due androidi ma siamo con cara quindi questo significa che ci è rimasta solo lei ok fine della corsa se dovete escire un bel posto di merda dove siamo finiti eh se devo dirla tutta e ci alziamo anche noi che dobbiamo proprio andarcene non possiamo certo andare non possiamo certo rimanere a dormire dentro un pullman e quindi abbiamo una bambina in pigiama che non può andare da nessuna parte sono sincero non ci metterei la firma bella mia però qualche idea dobbiamo trovarla da qualche parte si potrà stare ah c'è un motello guardate guardate che guardate che culo si c'è un motello ho visto comodo comodo non lo discreto servono soldi ok devo proprio analizzare vabbè infatti proviamo prima il motel anche se la vedo complicata con leggendo già le tariffe appure bene ci servirebbero 40 dollari e devo togliere l'uniforme o andare altrove e direi che se le cose stanno come penso posto dove togliere l'uniforme ce l'abbiamo proprio davanti a noi e forse è anche un posto dove recuperare 40 dollari ora che ci penso vediamo se vediamo se ho già se ho capito dove vogliamo andare a parare esatto ok vestiti per lei prima di tutto ci c'è siamo scappati siamo scappati da un tossico che ci voleva menare non credo che ormai ci possiamo fare problemi sulla questione della legalità quindi per cortesia e ormai abbiamo fatto 30 e facciamo 31 e che cazzo si specchi riprovo che sti comandi del manga non è che aiutino tacitua mi dispiace bella mia ma la situazione è grave quindi questo è quello che passa al convento non è una cosa bella ma bisogna farlo oppure è passata la pola c'è il suo perché così le api sono ufficialmente estinte non lo voglio leggere perché mi girano i coglioni solo al pensiero adesso bisogna recuperare i soldi però è quella forse la parte più rognosa a questo punto mi dispiace mi dispiace mi dispiace gli hanciolato i vestiti che ti devo dire volutiamo tutte le possibilità vedo molte cose cos'è quello scomodo ma sicuro è un magazzino abbandonato tanto ormai molto scomoda ma discreta negozio chiuso e quest'altro presso la domattina andiamo con ordine e vediamo un po' cosa riusciamo a fare negozio apre di mattina quindi nulla mi stiamo un attimo perdendo ma che sta andando la bambina vive di vita propria sta rompendo i coglioni non ho capito direi che è il caso di esatto rincuorarla un secondo che oh cazzo non so dove andare conosco chi può aiutare mmm è dall'altra parte della città a noi serve stanotte un fantasma che cazzo forza grazie 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 sperando che nessuno ci abbia sgamato l'ultima cosa che che voglio c'è qualcos'altro che non sia la macchina aspetta un po' nuova una casa abbandonata almeno staremo in asciutto cara questo posto non mi piace lo so solo per questa notte non ci cercheranno qui ok dove la potremmo trovare oh guardate alle volte la vita se mi manda un segnale così vuol dire che esatto c'è una tronchesina là sopra quindi non ve lo faccio dire due volte guardate alle volte cosa guardate alle volte la vita meglio che far dormire la bambina in macchina se mi permettete sa perché lo sapevo che mi rifaceva tagliare dal primo all'ultimo così tacci sua ok teniamola aperta anche per lei stai bene adesso non graffichi sta attenta adesso devo fare lo stesso anche per lei no questa cosa dei comandi giuro non l'ho mai sopportata neanche in Eviren vabbè non viene accesso si dentro no da qui non si passa no beh non cazzo aspetta no immagino serva un piede di porco oppure un altro ingresso io non vorrei che sia tutt'altro che abbandonata invece tutto chiuso bene abbiamo fatto la cazzata ci siamo persi la bambina porca di quella troia aspetta che cosa fai visitatori non ama i visitatori fanno male a Ralf è una bambina non ti farà del male bambini non è una bambina comunque cosa importa forse vuol fare male non so cosa ti abbiano fatto gli umani ma lei non c'entra niente tutti gli umani vogliono farcene ma Ralf non glielo permetterà più no non glielo permetterà senti sono un androide non devi avere paura ci serve solo un riparo i visitatori sono cattivi guarda hanno fatto male cazzo fatto male si però noi non siamo così dai per l'amore del cielo capito l'andazzo meglio se ce ne andiamo così si fa sicuro sono benessi a me io preparo i tasti perché secondo me qualche inculata ce la fanno mo eh no ok niente a casa c'è il motel ma abbiamo bisogno di 40 domani ci tocca dormire macchina vediamo se adesso verrà qualcun altro ad ucciderci perché ho visto che è l'andazzo dentro è asciutta e nessuno ci troverà io non voglio dormire qui non c'è un posto migliore vabbè ok troveremo di meglio mi stai un po' sul cazzo bambina ma non posso fare a meno di pensare che ucciderti è moralmente molto sbagliato quindi lasciamo perdere troveremo qualcosa di meglio come hai detto te te c2 vediamo se possiamo fare qualcosa nel negozio ma sembra un po' difficile il negozio è ancora aperto forse dovremmo entrare così non prenderai freddo ok posso aiutarvi? ho una bambina e non sappiamo dove andare avrete dei soldi per pagarci una stanza? senti questo è un discount tesoro non l'esercito della malvezza e fin qui mi aspettavo tutti gli svilittati del quartiere no 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 non possiamo esagerare in questa maniera anche perché non abbiamo dove stare quindi non ho capito quale sarebbe l'idea no dai no meglio di no lasciamo perdere non voglio cercare di rimanere vagamente nel nel campo dell'onestà però non non sarà semplice non mi sa che ormai non abbiamo altra scelta vero? no ci posso riparlare proprio in qualche modo no mi apriamo a cazzo no di lì non si va mi serve un'idea no e soprattutto ci sono le telecamere è meglio lasciar perdere non mi sembra una buona idea eh niente tocca lasciar perdere a meno che l'unica cosa ci è rimasta nel il negozio qui ma non credo di poter entrare è chiuso quindi esatto ma non posso entrare riproviamo l'albergo vediamo se c'è qualche idea mi sa che ci hanno anche sgamato malamente quindi io me ne andrei ciccio mi sa che ci tocca la macchina mi dispiace dirtelo ma oggi ti tocca la maghe la maghina solo per oggi dai poi qualche idea ci ci bollenerà per il cervello il mio dirà a morte però questa è la situazione ti chiedo schiuma però a questo punto non abbiamo altra scelta mi dispiace doverti dare queste brutte notizie però purtroppo ci tocca le sto sui coglioni in una maniera inconcepibile la posso capire ma questa è la situazione purtroppo perché non mi voleva bene perché era sempre arrabbiato come volevo solo vivere come le altre bambini forse ho sbagliato qualcosa non ero abbastanza brava ecco perché era sempre arrabbiato volevo che fossimo una famiglia volevo che mi volesse bene non potevamo essere felici non lo so adesso non mi lascerai vero prometti di non andare te lo prometto ci costerà caro ma staremo sempre insieme ci dobbiamo almeno provare per sempre e si finisce che ci tocca dormire in macchina anche qui di possibilità ce n'erano tante anzi ce n'erano veramente tante abbiamo valutato tantissime ma alla fine ci è toccata la ci è toccata la macchina ok ci avevo un cadavere quindi mi sa che siamo dal povero Marcus che proprio morto non è ma non credo neanche che se la passi una meraviglia qualcosa mi dice che va bene ci tocca faccio una tante danneggiata di brutto anche direi poi allora è sempre lo è sempre lo stesso indizio tutti i sistemi oltre le basi di energia difettoso bene proprio una situazione ci manca una gamba bene ottimo sempre meglio proprio e poi qualche altra troiata no basta così no spai c'è neanche un'altra ci hanno staccato un orecchio yep molto bene siamo diventati un cazzo di cassonetto non e mi aspettavo una roba del gelere un cazzo di quick time event pure per questo e vabbè la vita è ingiusta niente che non sapessimo già oh una gamba magari riusciamo anche ok la possiamo anche montare o ciò che questo fa un po' schifo a vedersi no pensavo peggio ha ha sfilato un moncherino dalla oh cazzo a livello di livello di livello di assemblaggio questi androidi sono una meraviglia eh manco all'ikea proprio e continuiamo a strisciare a cercare altri pezzi di ok un'altra gamba no non la possiamo usare questa ok fiera di bal ricominciamo dove erano rimasti ok aspetta ma ha parlato per caso ok quella gamba funziona diventeremo una specie di dottor frankenstein di sto passo ma vista la situazione è già tanto quel tizio dietro di me si muove ok le gambe ci funzionano adesso bene e possiamo camminare adesso dobbiamo pensare a tutto il resto mandano la discarica ma ci servirebbero un altro paio di di pezzi non è che siamo proprio al massimo delle funzionalità eh insomma bene un accenno di trama importante mi sa eh gerico e mo chi cazzo è questo vabbè oh mio dio quanto è crepida uno a diecimila sto pezzo oh signor guarda come se lo palpano tutto che schifo amici ma fatti i cazzi tu scusa eh se me lo permetti che cazzo la discarica di la discarica di cadaveri buttata lì no niente da fare non funziona non va bene vediamo quest'altro funzionale ma non compatibile proseguiamo che che ma è vabbè mo basta è diventato horror oggi che mi sa che quella pompa funziona e mi sa che ce l'ha oddio a cosa cazzo vuoi vivere che non ce n'è più robò ma dove vuoi andare dai fammi il favore vedila così è un trapianto di organi dai opla com'è nuovo morto a vita mea diceva quello sono cose che succedono e adesso dobbiamo pensare a occhi e orecchie e mi sa che questo ottimo e appunto mi servono i tuoi occhi dammeli grazie ok niente più che la natura adesso ci servono le orecchie quelle forse potrebbero essere un po' più complicate da trovare o forse no no prima dobbiamo trovare tutto quello che ci manca tu non hai nulla forse lui ok ora svitiamogli il cranio ma non ce l'ho proprio in mano meno male e tanto vale era meglio prima che non sentivo un cazzo detto proprio in tutta sincerità ok adesso immagino mi devo trovare le quelle dei rubili che cercano di distruggere cercano di ostacolarmi però se no mi dispiace se no mi dispiace avrei da fare quindi ma che cazzo dai su che non ci abbiamo un tutto sto tempo non ci abbiamo un po' più ma che cazzo dai non ci abbiamo un po' più che cazzo dai non ci abbiamo un po' più che cazzo dai non ci abbiamo un po' più che cazzo dai che cazzo dai che cazzo dai è diventato umano praticamente così ma un mano sul serio cioè pure il cappotto da pure il cappotto da figo ragazzi appoggiato lì a peso che cazzo da solo lui cosa gli vuoi dire a questo c'era qualcosa qui che non abbiamo c'era modo di farlo senza oh ok non abbiamo ancora perso nessuno meno male semplicemente questo ormai hanno perso la voglia di a forza di spararlo l'hanno per donna voglia lo riaggiustano ogni volta chi cazzo sarebbe Amanda scusate e su dove devo andare credo di là poi non sono neanche sicuro al 100% che sia che sia ancora tra di noi potrebbe essere tipo tipo struttura di di matrix quindi ah ecco non è sempre lo stesso spero che tu non commetta lo stesso errore non intanto farlo se un modello color viene distrutto la sua memoria passa al successivo ma alcuni dati potrebbero avere persi non farti distruggere sarà meglio per te e per le indagini capisco l'interrogatorio non mi è passo impegnativo che ne pensi del mediante ho riscontrato alcuni disturbi causati dagli abusi del padrone quasi come se la programmazione originale fosse stata resettata questo telethegerson è stato assegnato alle indagini sui medianti che ne pensi io lo definirei disfunzionale la sua situazione personale ha un impatto sul suo modo di lavorare sembra che non sia interessato alle indagini sportunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare con lui come pensi di approcciarti non ho dati sufficienti per decidere lo conoscerò meglio e mi adatterò alla sua personalità sempre più androi dimostrano segni di devianza sono milioni in circolazione se diventano stabili le conseguenze saranno catastrofiche direi il prototipo più avanzato che la cyber life abbia mai creato e sei in grado di capire cosa sta succedendo conti su di me Amanda riprendi le indagini interrotte dal precedente Connor e trova una soluzione presto Connor c'è poco tempo ho come il vago sospetto che ci sia qualcosa di molto più grande di noi intorno a tutta questa storia così a intuizione ritorniamo dove erano rimasti e cerchiamo il nostro tenente e aspettiamolo quale sarà perché mi fa frugare in tutte le scrivania di tutti allora posso solo leggere i nomi ok meglio anche così magari scusa ma guarda chi c'è guarda te alle volte la vita non posso ascoltarti perché sei curioso di sentire le cazzate che hai detto tossico maledetto che non sei altro vabbè vorrei dire che non possiamo ancora incrociarci con con lui eccola qui e vediamo quanto ci mette ad arrivare il nostro amico tenente minchia signor tenente e a questo punto si per ingannare per ingannare il tempo tanto vuole fare una frugata in mezzo alla sua roba heavy dark metal addirittura e che cazzo non si sa così su due piedi penso non ci risponderà mai però c'è tanta roba da analizzare ho capito a cominciare no la cosa più puliziesca del mondo le ciambelle mi sembra giustissimo poi che c'è un bonsai mezzo morto anche il drone è abbastanza convinto fiammiferi una vecchia foto cane san bernardo da dove cavolo la boh non smette mai di stupirmi allora mi manca qualcosa mi manca uno proprio uno insomma era un segugio antidroga e poi chissà che cavolo è successo esatto era una gente ricordata e fin lì l'abbiamo capito che cosa si è successo dopo un po' ci sfugge ma eccolo qui la cosa più puliziesca dell'universo mi chissà sulla mia scrivania ogni giorno arrivano dieci nuovi casi su android prima erano incidenti isolati signore che perdevano il loro robottino spazzate del genere ma ora riceviamo rapporti di aggressioni e omicidi come quello di ieri not non è più solo un problema della cyber life è un'indagine vera e propria e dobbiamo risolverla prima che le cose si mettano male indaga su questi casi per capire se c'è un qualche in esso perché io perché devo occuparmi di questa merda sono il poliziatto meno adatto del paese per questo caso non ci capisco un cazzo di android di genere non so neanche essettare il mio telefono tutti sono operati credo che tu sia perfettamente adatto a questo tipo di indagini strozzate la l'età è che nessuno vuole indagare su questi android e così devo pensarci io la cyber life ha mandato il suo android per questo caso è un prototipo molto avanzato e sarà il tuo partner no col cazzo non mi serve un partner neanche meno questo idiota di plastica stai cominciando davvero a farmi incazzare sei un tenente di polizia tenuto a fare quello che ti dico e a chiudere quella cazzo di buon sai quanta cazzo di cose avrei da dirti ok ok allora farò finta di non aver sentito niente così non dovrò aggiungere pagine al tuo dossier disciplinare che già sembra un romanzo la conversazione è finita Jeffrey mio santo perché vuoi farmi questo odio queste cose del cazzo perché mi fai questo ne ho abbastanza dei tuoi capecci o fai il tuo lavoro o consello indistintivo e adesso se può scusarmi o del lavoro da fare e triunfo della simpatia mi chiedo se il tenente Anderson sia la persona più indicata per questa idade e non mi serve una macchina che mi dica cosa fare con i miei uomini adesso vattene fuori dal mio ufficio ripeto la fiera della simpatia ok grazie che stavo cercando di ok immagino che la distruzione del mio predecessore non sia stata piacevole per lei e farò il possibile affinché questo non accada di nuovo ora che siamo con lei sarebbe opportuno conoscerci sai che ho fatto una cazzata in ogni caso voglio dirle che sono felice di lavorare con lei saremo un'ottima squadra così sui piedi credo non gliene freghi un cazzo ok ma non so più neanche come mi devo sedere adesso no certo che lo so eccoci qua a molte persone non piace avere androidi intorno mi chiedevo c'è una ragione per cui mi disprezza così tanto se ce n'è una non intende dircela ok va bene ci tiene così sul conosce da molto il capitano se da troppo lei è un cane bene e tu come lo sai peri di cane sulla sedia adoro i cani come si chiama il suo secondo te suo si chiama suo un po' ce lo siamo ripresi dai un po' paraculo però questo ragazzo qua sto punto ci ha sgamato un po' è tornato quello di prima allora ne abbiamo uno scomparso dichiarato di aver lasciato il proprio mandato da casa come in un giorno per andare a lavorare su di entro l'alternità ha scomparso nessuna attrazione dell'appartamento nell'alternità potrebbe avere la domanda dell'abitazione senza aver ricevuto l'altivo ordine ok il denuncente afferma di essere stato attaccato da una natura modellare che lavorava come cameriere presso il ristorante il ristorante affare il denuncente afferma di aver subito un tentativo di strangolamento da parte del nel sudato prima che quest'ultimo lasciasse il locale ok il denuncente afferma di essere stato attaccato da un droide che ha messo la casa il secondo prima di lasciare l'abitazione ecco e questo è margus lo sappiamo il pittore carl manfred e pure cara appunto e studiamoci di tutti il primo in sale a nove mesi fa è partito da detroit poi ha coinvolto tutto il paese una x400 ha aggredito un umano la scorsa notte potrebbe essere un punto di partenza per l'indagine capisco che si è afflitto da problemi personali tenente ma deve trovare a superarli e non ti permettere non mi conosci non siamo amici e non mi servono consigli ci abbiamo provato mi hanno assegnato questa missione non sono qui per aspettare che abbia voglia di lavorare direi visto che è venuto prima d'accordo proprio non ce la facciamo a farli andare d'accordo sti due eeeh al chiatra voglia anche qui abbiamo abbiamo esplorato quante più possibilità quante più si mi sono capito io quante più possibilità possibili ecco era un po' complicata da spiegare adesso visto che abbiamo fatto il giro mi sa che torniamo da cara se tanto mi da tanto continua a piovere alla faccia del riscaldamento globale e infatti torniamo da cara che sappiamo non l'abbiamo portata in motel ha finito a dormire dentro una macchina scusa come fa a tagliarsi i capelli un androide così non so di che cosa possono essere fatti i capelli ma insomma la cosa mi perplime alquanto anche vediamo se troviamo un barbiere o qualcuno che ci assomiglia ci vuole ci vuole mi sa che dovremmo fare come si dice un po' un po' la stracacacchio di cana a tagliarci i capelli speriamo che speriamo che sia abbastanza brava da sola a tagliarsi ah pure ah pure il la lasciamo la così non voglio stare lì a perderci troppo tempo e soprattutto come abbiamo visto fare anche da come ha fatto anche marco togliamoci il il cipino siamo insospettabili direi sai che è il caso di svegliare la buimba e muoverci verso nuove avventure no non era un incubo come ti senti ho freddo e adesso cosa facciamo l'androide che abbiamo visto ieri mi ha dato un indirizzo potremo cercare l'aiuto il treno passa dall'altra parte della strada la stazione sarà vicina te la senti di camminare andiamo considerato quanto fosse fottuto di cervello l'androide non so quanto mi posso affidare delle sue indicazioni però è l'unica cosa che abbiamo quindi adesso sembri davvero inumana non c'è più giustizia ok iniziano i primi incroci ci sono gli agenti nel quartiere magari qualcuno ha visto qualcosa ok fammi sapere che cosa trovano cosa ci vuoi fare non ne ho idea addirittura in un capitolo switchiamo da uno all'altro ha preso il primo autobus possibile e ha raggiunto il capolinea decisione non pianificata ma dettata dalla paura gli androidi non hanno paura i devianti sì sono sovrappatti dalle emulsioni e agiscono in modo irrazionale perché appunto devianti diventano umani non aveva una via e non sapeva dove è venire non è andata ok finito lo switch torniamo dove eravamo rimasti non preoccuparci di arrivare il prima possibile alla stazione in tutto questo evitando pure la giusta proprio perché siamo fermi ma già la ah già giusto facevamo le strisce ok bisogna evitare proprio bisogna evitare ogni singolo ok solo che porca troia è pieno uno non sa dove girarsi quella dove cazzo sta andando bimba di merda andiamo ok ok e si prosegue via dall'altro lato merda ho sbagliato tutto ho fatto una cazzata spaventevole adesso devo pure andarle a seguire cioè prima prima la confusione mentale che ti può venire in queste situazioni mamma mia mamma mia e si sta buttando e si sta buttando in mezzo in mezzo all'autostrada cazzo molto furbo da parte di entrambi per protesia non ditemi che c'è il quick time event qua perché ce la mettono sotto che è una meraviglia voi state fuori di testa in una maniera che non ne avete idea e vabbè ormai abbiamo capito l'andato questo magari è un po' più agile quindi esatto se la gestite è meglio opla mamma mia e mamma mia ste cose agita tua sorella per l'amor di dio andato è già il terzo che li ammazzo porca puttana stai bene stai bene disgraziati porca miseria non ne sto salvando uno non ne sto salvando uno porca miseria prima o poi prima o poi gioco prima o poi gioco arriverà a dirmi no per cortesia non te lo faccio usare è già il quarto che mi ammazzi fermati porca puttana porca puttana torniamo da marcus che ormai che ormai è umano che ormai è umano non dico al 100% ma quasi sì abbiamo contattato passare per vai vai che ormai è dove ci aveva suggerito il nostro... ha suggerito uno dei tanti. Andiamo a cercare i graffiti e direi che l'abbiamo trovato, senza neanche stare lì a... E non è questo, scusa. Ah, ok. Direi che il simbolo è questo qui. Quindi ci tocca la caccia al tesoro. Bene! Che due coglioni! Aspetta, com'è il graffito? Ok, devo cercare il leone. Quindi devo pensare che ce ne siano anche giù. Quindi continuiamo a scendere. Vogliono farsi... vogliono farsi sgamare. Eccolo lì, lo vedo già in lontananza. Cose che succedono. Eccolo lì, proprio in bella vista. No. Eccolo qui. Ah, qui sono due. E uno l'ho già... L'ho già sgamato qua. Ok. Cerchiamo, cerchiamo. Non è qua. Dobbiamo andare da quella parte, immagino. L'inquadratura era abbastanza... Era abbastanza rivelatrice. E infatti eccolo lì. La vedo in lontananza, eccolo lì. No, ho sbagliato. Mi devo avvicinare di più. Ecco qua. Uno. E due. Non è qua. Ho pensato, essendoci una grata, era molto probabile che fosse qui. E invece è qua. Eccolo. Ecco, aspetta. Qua c'è un problema, perché mi dice che sono tre. Ok, due. E tre lì. Non mi devo inchinare. Scusate un attimo. Scusate un attimo. Cosa è un attimo. Cosa è un attimo. Voi. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' l'ultimo, ma che scherzi? Te piacerebbe? Eccolo lì. Addirittura è di corsa, quindi questo forse è l'ultimo. Perché quando succede così... Bastardi, sono tre. Pure qua. Vediamo, dai. Può essere così complicato. Invece sì, perché devo salire. E per farlo, esatto, devo andare di ingegno. No, giro, tira quella parte, è ok. Sei troppo agile, zio. Numero uno. Ok, ne ho già visto un altro e anche l'altro. No, questo è quello che avevo marcato. Eccolo qui. Ce n'è anche un altro. Qui non c'è. Doh gazzo sta? Adesso ho perso uno, scusa. Ma forse è più avanti. Aspetta. Adesso mi... Mi incasino la vita per una cosa del genere. Allora, scusa. Scendere non si può riscendere, quindi non... Quindi deve stare per forza qua. Dai, bastardi, era nascosto. Sì, per forza di cose è giù, bello, beh. Quindi... O salti, o salti. Cioè, non ho capito. Giustamente... Ho visto in anticipo come doveva muoversi. Scendiamo giù. Ho già visto in lontananza la schieretta. Eccola lì. Mi sa che ci siamo. Uno. Due. E tre. Che per caso ce l'abbiamo fatta? Sì. Quasi. Ok, precostruiamo pure qui. No. Meglio di no. Non è una buona idea. Ok, però non posso... Non posso cambiare la strada da un pezzo all'altro, quindi... O devo modificare qualcosa. Cioè, o devo modificare qualcosa... Ecco. C'era un altro percorso. Non l'avevo visto. Ok, no. Non va bene nemmeno questo. Ma non c'è neanche un altro percorso da qui. Perciù. Per cui, neanche questo va bene. Eh, sì, ho capito. Non usavo l'altro percorso da prima. Ma non è quello che dobbiamo fare. Indi per cui... Per esempio, da qui non posso... Ecco, ma da qui sì. Abbiamo visto però che qua è instabile. E quindi no, non è neanche qua. E neanche questa è la strada giusta. Si, ho capito l'anteprima. Ma se è tutto bloccato, che strada devo fare? Io mi scusi. Oh, ecco. Il muro. E da lì in poi, esatto. Arrivare da lassù. No, perché sarebbe troppo in alto. Però posso raggiungere la scala, che è molto più vicina. E da lì puoi salire. Perfetto. Facile come aveva un bicchiere d'acqua proprio. Anche con dei tagli nel montaggio incredibili. Ok. Non avevamo finito. Ce n'è un altro. Adesso sembra un po' più stronzo, ma non è impossibile. Vedo. Oddio. Guarda, sicurantissimo. Oh, eccolo qui. Questo era anche un po' stronzo da trovare. Un'entrata che sembra proprio questa. E quindi direi che ce l'abbiamo... Oh, pardon. Mi lo... L'abbiamo indicato di sticcacchio di quick time event. E proseguiamo. Ho letto già Gerico in lontananza, quindi mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Una nave. Che cazzo... Vediamo un po' che cazzo... Ma vaffanculo! Una cosa facile proprio mai, eh? Porca miseria. Adesso io come ci dovrei arrivare? Mi dica. Dottore. Ah, da qui. La strada più lunga sempre, perché sennò... Ci mettiamo troppo a poco, quindi... Aspetta, che crolla pure questa. Adesso ci manca solo quello. Aspetta, eh. Aspetta, guarda come crolla. No? Ci manca solo quello. Ah, apposto. Sicurissimo, però... Forse è anche più sicuro del ponte di prima. E giù! Bella l'immagine, però. Stavo per dire, ci manca solo che non c'è l'acqua. E ci va dritto di testa, che è una meraviglia. Invece... Quello no. Manca un... Almeno quello. Ovviamente, l'illuminazione, ah! Ma di quelle che si accendono agitando. Un bel posticino simpatico, come sempre in questi casi. Questa sembra bloccata, ok. Non avevo visto la porta di qua. La frugare un secondo per capire il da farsi. E' chiusa. penso che ne troveremmo anche un bel paio chiuse non so da cosa stesse scappando gradirei delle spiegazioni tipo spero che qualcuno si degni di darmele perché vorrei un tipo capire cosa ho neanche ben visto che cosa fosse che stava scappando uomo donna bambino cade a pezzi proprio eh aia uomo donna c'ho la sfiga addosso con questo eh caso di dirlo oh non sono da solo vedo eh benvenuto a giri mmm non credo che esatto che non credo che ci fossero molte strade da da percorrere e proseguiamo vediamo a questo punto chi ci tocca immagino di nuovo Connor meglio immagino il terzo Connor che c'è il terzo Connor che tocca tirare fuori visto che anche questo l'abbiamo fatto finire mezzo alla strada ecco qua ecco qua ecco questo siamo a tre ma che cazzo scusi non comprometterebbe non comprometterà le indagini non comprometterà le indagini sei appena stato investito ad un carro e torni qui come se niente fosse una macchina viene distrutta e un'altra macchina la sostituisce non capisco che cosa va a distrutto non credo apprezzare molto la cosa ho avuto un rapporto su un debiante sospetto a pochi isolati da qui diamo un'occhiata la lascio al suo pranzo sono in macchina che si ha bisogno ma il guardo è fospetto mi scusi facevo rapporto alla Cyberline hai deciso di accamparti nell'ascensore no sto arrivato cosa ne sappiamo non molto un vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire dal suo piano pare che qui non ci viva nessuno ma ha detto di aver visto un uomo con un led sotto il ca... appello oh cazzo se ci tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore servono altri spiriti se non andiamo no? ok c'è nessuno? aprite poliziani detroit stammi dietro va bene un po' paranoico il ragazzo eh la casa tappezzata di disegnini strani ma che cazzo è questo? tutte le colombe che abbiamo forza da fare schifo qui ma va ma siamo venuti per niente sono già andato qualcosa mi dice di no eh che cazzo quanti piccioni un piccione dietro l'altro per completetà di indagini floghiamo dappertutto non ci sono piccioni pure qui il soltanto non mangia cazzo cazzo è un androide un piccione dietro l'altro mi piacciono gli animali salvatici esatto non ce ne eravamo accorti dai 7900 piccioni dentro la casa aspettato non si lava oggi ne eravamo se ne dire sangue blu appunto ma c'è anche un led disattivazione 6 novembre 2038 r a 9 un po' ossessiva la cosa scritto l'ossessivo compulsiva esatto e c'è qualco ok un evidenziatore no no già non è di quelli quelli che si spedano con con l'infrarossi faccio rischiamenti di volatile ricostruiamo con quel poco che abbiamo è stato qui di recente e fin qui ci siamo è corso e soggiorno ok e ha iniziato a scrivere ok quindi c'era qualcuno che lo seguiva c'era qualcuno che lo seguiva quindi questo è un indizio di qualche tipo la gambe per gli uccelli con dei sgraffi delle impronte che non condurano nulla perché sono perché non sono umane è un gancio ok allora ecco verso l'ingresso è uscito dall'armadio era seduto no è al piano di sopra ecco ecco ma lo faccio dire due volte ok madonna delle mieti trebbie finisce male qua eh vi avviso faccio rimanere veloce e merischiosa e vaffanculo vada per veloce e merischiosa che tanto ormai ormai non so più cosa troviamo una strada alternativa che tanto lo possiamo inchiappettare no no non c'è bisogno è andato di qua l'ho visto ok ah merda mo dove si è nascosto ah no eccolo lì eh devo fare il giro io quando devo andare di là non l'avevo visto opla dai che lo becco eh no stavolta niente pullman meglio di no e cazzo ho perso se poi vado sopra i pali che arroia tutto quel teletrasporto madonna quanto cazzo corre non si ferma più sto rompicoglioni eh madonna eh sì eh io dopo dove dovrei andare qua ecco oh merda ma sì dai 49% più vuoi che sia eh lo so tanto ti salvi vero? ti prego non ho fatto niente di male volvo essere libero sai che mi faranno se mi consegnano modello 874-004-961 abbiamo rilevato gravi mal funzionamenti di sistema inclusi errori di classe 4 sei ritenuto difettoso tornerai alla cyber life per la disattivazione non ti muovere cazzo bastardo hai visto che stavo per cadere mai preferito la tua missione del cazzo ho dovuto scegliere mi era sembrando cosa sono per te sono un numero 1011 nel tuo programma eh pensi questo degli umani bastardo merda comprendo la sua ira forse non avrei dovuto fa culo tu e i tuoi doveri nel cazzo vieni qui perché mi fate questo va bene sei uno di nuovo stanzetto hai lenti di umani ma sei solo uno schiavo ho detto stanzetto ok vieni non capisco perché quella mi sa che così ci possiamo anche fermare qua è stata bella intensa oggi abbiamo visto diversi Connor morti abbiamo visto insomma la trama si sta facendo un po' più matura stiamo arrivando ai classici punti dei giochi di Quantum Break di quanto si Quantum Break no Quantic Dream porca puttana li confondo sempre comunque se state guardando no vabbè direi che abbiamo finito se state guardando su Youtube non dimenticate ovviamente vi piace commentare e condividere ma soprattutto iscrivetevi se lo state guardando su Twitch noi ci vediamo martedì per Scarponi da Roma lo continuiamo dopo la dopo la Champions che abbiamo visto tutti come è andata a finire e poi vabbè vi aspetto il 24 marzo al teatro del segno per This is the Jungle con il torneo di FIFA vi salva al commento vi voglio vedere tutti vi voglio tutti lì e direi che abbiamo finito così I'm Jack Tweper e se non vi è piaciuta questa roba lo sapete non sono sicuro di voler riconoscere